Ciao a tutti, io sono Pierluigi di Grafica Facile e in questo video vi spiegherò come utilizzare i movie in meno di 10 minuti. Ora la prima cosa che andremo a fare sarà andare su Projects e se quando avete aperto i movie siete sui media, basta che cliccate nella parte in alto a destra su Projects e qui potrete trovare tutti i vostri progetti recenti che avete salvato e in questo caso la prima cosa che andremo a fare è cliccare su Create New. A questo punto si aprirà questo window che vi permetterà di scegliere tra movie e trailer e la differenza sostanziale, come potete vedere nella descrizione, è che il filmato movie vi consentirà di aggiungere video, foto, musica a un vostro filmato. Quindi è l'opzione che utilizzerete il 99% delle volte, mentre invece trailer vi permetterà di creare dei filmati in stile hollywoodiano con effetti particolari e simili a quelli di un film. Adesso clicchiamo su Movie e come potete vedere avremo l'editor principale di iMovie. Qui in alto a sinistra troverete la sezione My Media, che vi permetterà di trovare tutti i media che andrete a utilizzare per la creazione del filmato stesso. A destra, in questo riquadro, potete vedere la preview del vostro filmato, mentre invece sotto, in questa sezione stesa, troverete la timeline del filmato. Ora, per aggiungere del media alla timeline è molto semplice. Potete semplicemente trovarlo nella sezione Libraries, oppure fare come faccio io di solito, che è o aggiungere il filmato, se è un filmato unico, sul desktop e fare drag and drop. E potete anche tranquillamente avere tutti i filmati nel finder e dopodiché potete fare drag and drop dai filmati direttamente qui su iMovie, anche se sono molteplici. Oppure ancora un altro modo per aggiungere del media è andare sotto la voce File e selezionare Import Media. A questo punto si aprirà questa sezione di import che vi permetterà di andare nel vostro computer e fare l'import di quelli che possono essere tutti i vostri materiali, sia visivi che uditivi. Ora, a questo punto, dato che abbiamo il filmato stesso, vi domanderete come posso riuscire a rendere il filmato più breve oppure tagliare sezioni del filmato. Ora, per tagliare è molto semplice. Basta fare clic destro e selezionare Split Clip e come potete vedere il filmato verrà tagliato. Un altro modo per aggiustare la lunghezza delle clip e selezionare esattamente la parte che volete e andare nel bordo sinistro e selezionare tagliando qual è la sezione che desiderate. Quindi due modi. E dopodiché possiamo anche fare zoom in nel progetto oppure zoom out direttamente da questa opzione qua. Inoltre, nel momento in cui selezioniamo una clip potrete vedere che abbiamo tante opzioni a disposizione per cambiarla. Quindi qui ci sono dei preset che vi permettono di mettere ad esempio l'Auto Color il Match Color o anche aggiustare il White Balance. Altre opzioni per quanto riguarda i colori possono essere queste e anche per quanto riguarda la luminosità. Quindi qui possiamo aggiustare ad esempio la luminosità qui possiamo giocare con i toni scuri e ovviamente possiamo anche aggiustare i livelli intermedi. Quindi questo è una cosa che può essere utile a tratti come ad esempio anche la saturazione però se vogliamo un effetto bianco e nero possiamo semplicemente desaturare completamente possiamo anche selezionare questo strumento e decidere se avremo toni più freddi oppure più caldi nel nostro filmato. Un'altra cosa che può essere utile è il cropping quindi decidere quando e dove sarà il crop di questo filmato. Quindi se ad esempio vogliamo focalizzarci solo su quest'area del filmato basta che selezioniamo crop to fill clicchiamo enter e come potete vedere il filmato verrà croppato in questa sezione ad esempio comincia così e dopo si focalizza su quest'altra parte. Possiamo anche andare qui all'inizio cliccare su play per poter vedere appunto come sta procedendo l'editing del filmato e ovviamente possiamo cliccare su pause nel momento in cui vogliamo che questa preview finisca possiamo anche vederla a pieno schermo in maniera tale che sia ancora più visivo il tutto e un'altra cosa da considerare per quanto riguarda l'editing del filmato è che se abbiamo un filmato con del contenuto che diciamo è mosso ad esempio se avete registrato da un'automobile oppure in qualsiasi punto in cui magari la telecamera ha ricevuto dei subbalzi possiamo cliccare su stabilize shaky video e questo andrà a creare una stabilizzazione artificiale da parte dei movi del video possiamo anche rendere la velocità più lenta oppure più veloce del filmato stesso e qui avremo diversi preset che ci permettono di scegliere quale sarà la velocità e per quanto riguarda altre funzioni molto utili da sapere sicuramente la sezione audio qui potete caricare degli audio o anche delle musiche dal vostro vecchio iTunes o anche da GarageBand e potrete anche caricare dei titoli quindi ad esempio se aggiungiamo un titolo qui possiamo vedere come verrà applicato al filmato possiamo anche selezionarlo e metterlo subito qui sopra quindi e dopo per modificarlo facciamo doppio clic e possiamo scrivere il titolo che preferiamo e facendo sempre doppio clic potremo anche selezionare il font che desideriamo la grandezza di questo titolo e anche se sarà giustificato a sinistra centro o destra o anche giustificato inoltre potete selezionare se sarà italico o bold e anche se avrà l'outline e quindi avete tutta una serie di opzioni a disposizione per questi per questi filmati altra cosa utile sono gli sfondi quindi ad esempio qui possiamo selezionare uno di questi sfondi ad esempio il gradient e come possiamo vedere se mettiamo il testo sopra avremo questo questo sfondo e ovviamente possiamo creare diversi di questi livelli uno sopra l'altro nella timeline quindi di sfondi ce ne sono davvero molti e un'altra cosa che è utile sono le transazioni quindi se ad esempio utilizziamo questa qui la collochiamo così possiamo vedere come viene applicato questa transizione direttamente nel file e se vogliamo cambiare la transizione basta che facciamo drag and drop direttamente e potremo vedere questa secondaria opzione che abbiamo a disposizione ora nel momento in cui avete completato il vostro video vi domanderete come potete esportarlo e la risposta è davvero semplice basta cliccare su in alto a destra su questa icona share e qui potete decidere se inviare il vostro video per email caricarlo su youtube o facebook se volete salvare il frame corrente oppure l'opzione che di solito utilizzo 99.9% delle volte ovvero l'export locale e se cliccate su export file potete aggiungere il nome quindi questo qui sarà il nome dell'export una descrizione capzionale come i tag qui potete decidere se esportare il video e l'audio oppure solo l'audio la risoluzione la qualità che di solito metto sempre high oppure best prores e anche la compressione dopodichè avrete una stima del rendering time e la grandezza del file dopodichè se cliccate su next potete confermare la zona in cui verrà caricato il file e il nome e avrete il vostro video in rendering spero che questo video sia stato utile e ci vediamo nel prossimo